Buonasera, buonasera, benvenuti allora a Giorgia Meloni stravince, ci sarà a questo punto un governo di centrodestra, i vincitori e i vinti, parliamo soprattutto dei vinti, soprattutto di chi è in crisi, parleremo del Partito Democratico, parleremo anche della Lega che hanno avuto dei voti sicuramente inferiori alle aspettative, mentre molto bene appunto Giorgia Meloni, deluso anche Calenda per risultato ottenuto, bene anche Silvio Berlusconi perché forse Italia probabilmente nessuno l'avrebbe data al risultato che ha ottenuto. Tutto questo anche con l'autunno che verrà perché sarà un autunno sicuramente difficile tra il problema della crisi energetica e le tensioni internazionali, quindi sarà un governo complicato, ma ne parliamo, ne parliamo questa sera, prima degli ospiti in redazione nell'altro studio c'è Jacopo Casoni che saluto e che ci darà una mano a leggere anche tutte le grafiche con tutti i numeri, abbiamo fatto anche un'evoluzione dei partiti nel corso degli anni, prevedere come si sono mossi, chi ha guadagnato tanto e chi ha perso tanto. Buonasera Jacopo intanto. Buonasera a te e i tuoi ospiti. Allora Fabio Albanese, l'Italia sul serio, buonasera, bentornato, non è stato eletto, però ci abbiamo provato. No, però è andato molto bene per il mio collegio. Sì perché poi Milano, la Lombardia, siete andati molto bene. Fabio Pinzul che non era candidato. Non era candidato, quindi non ho rischiato né di vincere né di perdere. Non è rischiato? Ecco, capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale, la presento per ultima ma è la vincitrice che è Paola Frassinetti che è stata rieletta deputato di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Complimenti a te, al tuo partito, hai avuto tanti voti anche tu nel tuo collegio e quindi una ventina di punti di stacco. Dopo abbiamo visto proprio la fotografia del tuo collegio per farti un pensierino, un cadeau. Allora Jacopo, partiamo dalla... i risultati sono quasi definitivi a questo punto, no? Le sezioni sono state scrutinate tutte mi sembra, quasi tutte. No, quasi tutte ci sono, ce ne sono una ventina o giù di lì alla camera ancora da scrutinare. Non si muove niente dalle 18 più o meno, per cui vuol dire che sono quelle un po' come, di solito ci sono quelle un po' lente, no? Vediamo la camera tipo Agrigento che non avevano le matite per votare ieri, tanto per dirne una, no? Quindi magari sono quelli che sono rallentati anche per cause loro, insomma. Vediamo la camera. Sì. Vediamo prima la camera, per favore, la tabella della camera e poi vediamo il Senato con tutti i partiti. Eccoli qua. Questi qui sono i risultati alla camera, quelli al Senato sono molto simili, diciamo così, quindi non ci sono grandi sconvolgimenti come al solito del resto. Questo è quello che è successo e cioè un'affermazione netta, direi, oltre il 26%, perché se mettiamo il secondo decimale alla camera eravamo a 26,01, adesso probabilmente siamo a 25,99, se ho letto bene, di Giorgia Meloni e del centrodestra in generale, con però un traino fortissimo di Giorgia Meloni, visto che, lo vedete, Lega e Forza Italia, entrambe a modo loro, uno in un modo e una nell'altro, sotto il 9% e quindi basse rispetto appunto alla leader di questa coalizione che si appresta a governare l'Italia. Bene, il Partito Democratico 19,1 l'abbiamo visto e è andato, credo, sotto il 20%, credo che sia un risultato assolutamente negativo per voi, adesso poi ne parliamo. Il Movimento 5 Stelle è forse un po' di più di quello che ci si aspettava. Sono voti raccolti soprattutto al sud, 15,4%. Vorrei farvi vedere, e da qui partiamo, le differenze. Guardate Fratelli d'Italia, nel 2018, Frassinetti, avete preso il 4,3%, nel frattempo ci sono state le europee del 19 con una lieve risalita, 6,4%, avete fatto questo balzo al 26%, cioè una roba pazzesca. Ma è tutto merito di Giorgia Meloni o è proprio l'area del paese che è cambiata? Ma secondo me il merito è di Giorgia Meloni perché è riuscita a interpretare il sentimento degli italiani, a far apprezzare la sua coerenza, soprattutto in questa legislatura con tre governi diversi, questa cosa è data ancora più nell'occhio degli elettori. Governo prima giallo-verde, poi giallo-rosso e poi governo Draghi. Governo giallo-rosso, poi quello di Draghi. Voi siete gli unici che siete sempre stati all'opposizione. Siamo stati all'opposizione ma facendo un'opposizione costruttiva, perché i provvedimenti diciamo che secondo noi andavano bene agli italiani li abbiamo votati e quindi anche con l'intervento bellico abbiamo sostanzialmente aiutato in un momento difficile anche il governo a posizionarsi. Quindi è stata un'opposizione dura su alcuni provvedimenti economici di politica generale, ma sempre molto attenta. Io penso che la coerenza sia stato il filo conduttore di questa legislatura e poi la nostra crescita è stata lenta ma inesorabile. Non è stato un botto improvviso, ma è stato proprio... Beh, c'erano avvisaglie già nelle scorse elezioni, però ripeto, dal 19... Vediamo per favore la grafica, quella dell'evoluzione nei partiti nel tempo. Eccola qua. Questa qua l'ho fatta perché secondo me fa riflettere tutti i partiti. Voi non ci siete, a Calenda non ci siete perché siete un nuovo formazione. Però ecco, guarda, Fratelli Italia, 26%, andando indietro, europei del 19, 6,4%, politiche 18, 4,3%, europei del 14, 3,7%. Siete partiti alle scorse, due politiche fa, al 2%. Quindi abbiamo fatto anche un grafico che ci fa vedere... Nel 2013 abbiamo fondato il partito nel dicembre del 2012... 11 quando era uscito, quando è arrivato Monti, no? No, ma noi abbiamo fondato il partito nel dicembre del 2012. Con le elezioni fissate il 24 febbraio del 2013, con Natale in mezzo, c'è una sfida pazzesca. E siete partiti da lì. E siamo partiti da lì con un salto nel vuoto, perché poi a noi uscenti ci dicevano... Eccola qua, guarda il grafico che ha preparato il nostro Massimo Sora, che ci fa vedere anche graficamente il Fratelli d'Italia, che è quello blu scuro. Ci dicevano, ma non sarete mai aletti? Ma noi abbiamo detto, non ci interessa, noi vogliamo provare a fare questa cosa. Guardate il salto che ha fatto. Passo dal PD, passiamo dal PD. Ritorniamo a vedere i numeri del PD, che sotto il 20% era chiaro per tutti che sarebbe stato un fallimento, no? Un insuccesso grosso. Sì, un insuccesso, anche perché la prospettiva era quella di poter, almeno fino a qualche settimana fa c'era questa ipotesi, di gareggiare con Fratelli d'Italia per poter vincere la palma del primo partito. Oggettivamente questo non è accaduto. C'è stata un'emorragia di voti piuttosto evidente e scendere anche sotto la soglia psicologica del 20% non è certo un bel segnale. Tanto che oggi il segretario del partito Letta ha detto che lui aveva due obiettivi quando era arrivato. Quando è arrivato un anno e mezzo fa aveva l'obiettivo di far sopravvivere il partito perché ricordiamoci che un anno e mezzo fa era in forse anche l'esistenza del PD dopo le drammatiche e improvvise dimissioni di Zingaretti. Quell'obiettivo è stato raggiunto perché comunque è un partito che ha mantenuto più o meno una sua logica nei consensi. L'altro obiettivo era quello di essere alternativo al centro-destra e competitivo col centro-destra a queste elezioni che evidentemente sono arrivate prima di quanto si poteva prevedere e auspicare dal punto di vista del PD, però le si è giocate facendo anche qualche errore oggettivo. Poi adesso vedremo gli errori che avete fatto. Però la situazione di fatto è questa. E poi Jacopo notava una cosa, tu notavi una cosa sulle coalizioni che praticamente tutta la coalizione di centro-sinistra ha fatto quanto ha fatto Fratelli d'Italia quindi altro che competizione tra i partiti. In realtà credo addirittura al Senato, adesso provo ad andare a vedere ve lo faccio anche vedere dal sito del Viminale, Fratelli d'Italia ha il 26,01 al Senato lo possiamo vedere dal computer forse, sì, eccolo qua, ha il 26,01 solo Fratelli d'Italia lo vedete, eccolo lì in alto e la coalizione del centro-sinistra ha il 25,99 quindi ha praticamente meno di quanto ha Fratelli d'Italia come partito, come lista. Siamo onesti, era una coalizione un po' sui generis perché era un ripiego rispetto a una coalizione che si voleva più ampia. Adesso parliamo anche di questo perché oggi devo dire che c'è stata questa campagna elettorale in cui tra Calenda e Letta sono volati gli stracci, io speravo che oggi finisse lì invece hanno continuato a dirsene di tutti i colori, incolpandosi uno incolpava l'altro dell'insuccesso generale. Voi osservate da vincitori però chiaramente, è chiaro che se vi foste presentati insieme le cose sarebbero andate diversamente, questo mi sembra abbastanza ovvio. A Jacopo, sì, dimmi. Sarebbe stato addirittura più marcato il distacco. Credo io, non so se è d'accordo o meno. Non si prendono i voti purtroppo, però può essere una tesi questa, come potrebbe essere anche una tesi il fatto che se ci fossero stati dei provvedimenti con una qualche rilevanza e successo da parte del governo, si sarebbe potuta erodere anche magari... Però è oggettivo che sarà un autunno freddo dal punto di vista della temperatura e caldo. Non c'è dubbio, ma infatti non invidio chi dovrà gestirlo. Perché adesso loro hanno questo problema qua. Allora adesso analizziamo ognuno dei vostri partiti, però uno ha un giudizio di insieme anche ad Albanese sui risultati, poi dopo vediamo anche il risultato vostro specifico. Però vediamo le coalizioni. Voi vi aspettavate un successo così netto del centrodestra? Oggi Calenda ha detto che è una destra pericolosa. Ma è una destra pericolosa. È una destra che lascia dei dubbi perché nel nostro paese sappiamo che stare all'opposizione premia quasi sempre. Sappiamo che poi andare al governo è tutta un'altra cosa. Occorrono competenze, programmi e soprattutto una strategia molto chiara. Quindi siamo preoccupati per quello che può succedere in un momento di crisi come quella che stiamo già vivendo e quella che si prospetta anche nei prossimi mesi purtroppo. Siamo preoccupati per quella che è la posizione che il nuovo governo avrà nei confronti dell'Europa e quindi anche della Russia, della guerra. Beh sulla Russia e sull'Ucraina mi sembra che Fratelli d'Italia abbia avuto una posizione netta come la vostra. Basta seguire la politica per capire la Meloni cosa. Sull'Ucraina non ha avuto mai un ripensamento. Non c'è solo Fratelli d'Italia. Ah certo, non c'è solo Fratelli d'Italia. C'è anche la Lega che ha avuto invece delle posizioni diverse. Sembra che le proporzioni del peso politico siano abbastanza. Praticamente sta dicendo a Lega e a Forza Italia che non contano granché. No, non contano, ma su una linea come quella bellica. Lo stesso Berlusconi è intervenuto poi sulle sanzioni della Russia l'altro giorno. Ma dicendo anche che Putin voleva mettere un governo di persone per bene. Ma poi la Lega e Forza Italia hanno votato le armi all'Ucraina, hanno votato insieme al governo. Non c'è dubbio. Si inventano una posizione diversa adesso. No, non è inventare. Però sono certe dichiarazioni che possono andare ad alterare quello che è l'equilibrio geopolitico in un momento delicato per tante ragioni in cui invece occorre essere molto... Però di questo ne parleremo. Però chiedere una cosa ad Albanese è un'altra cosa. Oggi Crosetto ha detto che la finanziaria, di fatto, l'interlocutore principale sarà Draghi. Perché di fatto siamo a fine settembre e la finanziaria deve essere fatta entro il 20 ottobre, mi sembra. E quindi, anzi, oggi c'era un esponente vostro che diceva in realtà la farà il ministro Franco, la finanziaria. La faremo insieme al ministro Franco. Il DEFRA per forza deve fare questo governo, si basa poi la finanziaria su quello. Quindi di fatto un pezzettino di agenda Draghi sopravvive. Ma purtroppo rimarranno i pezzettini. Io credo che questo paese rimpiangerà molto la guida di Mario Draghi perché essere al governo... Però dalle elezioni non sembra, eh? Eh, questo è il vero problema. Eh, dalle elezioni non sembra. Il problema è la partecipazione della gente. No, no. Allora, la scelta democratica della gente è sacra e questa non è in discussione, ci mancherebbe altro. È un problema di natura politico che mi sento di commentare perché un paese che in questo momento da una parte sembra cercare la stabilità perché ha dato dei sondaggi almeno il 54% degli italiani erano pro Draghi, erano a favore... E poi in realtà non l'hanno votato. E poi non l'hanno votato, insomma, lascia un po' sgomento. Adesso ne parliamo. Allora, adesso mandiamo la pubblicità e poi vediamo, analizziamo le situazioni dei vostri partiti sentendo anche le parole a caldo dei leader. A tra poco. Allora, sentiamo... abbiamo preso due pezzettini di quello che ha detto Enrico Letta. Partiamo da quello che è... l'abbiamo definito il campo largo perché poi Calenda risponde proprio sul campo largo. Cioè, per campo largo si intende l'alleanza anche a sinistra, anche col Movimento 5 Stelle. Sentiamo Letta. Il Partito Democratico è la principale forza di opposizione e il Partito Democratico lavorerà per costruire in prospettiva quello che non è stato possibile fare questa volta. I numeri dimostrano che l'unico modo per battere questa destra era fare il campo largo. Il campo largo non è stato possibile, non per nostra responsabilità, l'abbiamo perseguito in tutti i modi e in tutte le forme. Si sono sfilati alcuni di questi interlocutori. Da quello che ho capito io, per campo largo si intende l'alleanza con la sinistra, quindi anche con il Movimento 5 Stelle. No, no, campo largo tecnicamente inteso nella testa di Letta inizialmente. Era solo con loro? No, no, con tutti. Ah, ok, ma allora perché dice che si sono sfilati? Non è 5 Stelle che si è sfilato. Loro sì, ma 5 Stelle non li avete voluti voi. La tesi di Letta anche oggi è che nel momento in cui fanno cadere il governo sugli inceneritori, tra l'altro come cosa, lì in quel momento Conte decide di sfilarsi. Quindi lui è il primo che si sfila. Lui è il granellino tolto il quale è venuta giù poi la frana. E poi i secondi che si sono sfilati sono loro. Lì è stata una storia un po' diversa perché c'è stato un accordo politico siglato di fatto con Calenda, poi ha fatto evidentemente Calenda il suo ragionamento, le sue valutazioni e ha deciso di non... Sentiamo cosa gli risponde. Però ribadisco, io facendo un parallelo sulla Lombardia, io faccio semplicemente un ragionamento così, anche guardando i numeri poi delle elezioni politiche. Se si fa la somma di tutti i partiti, sono sopra come quota al centro-destra. Fateci vedere le coalizioni. Poi è chiaro che se ci si prende di punta... Aspetta, Casoni ti sta facendo così con la mano. Perché stai facendo così, Jacopo? Perché fare i conti, secondo me fare i conti sommando i dati di oggi, non so se ha senso, perché in realtà voglio vedere se il Movimento 5 Stelle prende il 15-4 se si allea col PD. Voglio vedere se Calenda prende il 7-8 se si allea col PD. Magari sì, magari no. Cioè soprattutto il conte secondo me è 15-4 che non ci arriverà mai se si allea con voi. Non posso ragionare sugli unici dati oggettivi. Che sono quelli numeri. Però la somma non è la soluzione, secondo me. I numeri poi in politica non sono e non creano una conseguenza matematica di vittoria assoluta, però indicano una prospettiva da perseguire. Che voi non avevate avuto. Sentiamo Calenda. Sentiamo Calenda a cosa risponde sul campo largo. Che senso aveva allora prendersi Fratoianni e Bonelli se a metà della campagna elettorale devi raccontare che non ci faresti neanche un governo insieme? Come ti puoi far votare su quella base? Dunque questo è il punto che noi abbiamo tenuto dall'inizio della campagna, l'abbiamo continuato a tenere. La mucchiata del tutti contro funzionava se allora dovevano farlo anche con i 5 Stelle. Invece questa via di mezzo non l'ha capita nessuno, tant'è che il PD ha un dato disastroso nonostante siano rientrati Articolo 1 e Compagnia Cantana. Albanese, Calenda dice quello che ha sempre detto, o stavate tutti insieme, quindi anche con i 5 Stelle, o stavate solo con noi. Che senso ha prendersi Fratoianni che non era d'accordo con Draghi e non 5 Stelle? Guarda, io credo che il punto fondamentale sia quello di non confondere le coalizioni dei numeri con le coalizioni dei programmi. Perché le coalizioni dei numeri poi vanno sempre a sbattere se non ci sono dei programmi comuni. Che è quello che dice Pizzoli di sommare i numeri, tu dici che è sbagliato. No, è sbagliato, cioè bisogna anche avere una profonda convergenza su quelli che sono i programmi poi da portare avanti. Che in termini iniziali, quando è stato fatto l'accordo con il PD da parte di Calenda, sulla carta c'erano, erano scritti. Il problema è che dal giorno dopo, nel momento in cui invece Letta ha aperto a Fratoianni, ha aperto a Bonelli, ha aperto tutta una serie di altri interlocutori... Ma era scritto nell'accordo che avrebbe fatto l'accordo con Fratoianni? Sì, si poteva anche allargare, però tenendo fermi quelli che erano i punti del programma. Perché se non ci si mette d'accordo su quelli, diventa una cozzaglia dove dentro c'è di tutto e di più. Chi vuole dei gasificatori, chi non li vuole. Chi vuole le sanzioni, chi non le vuole. Sì, perché in effetti subito dopo l'accordo con Fratoianni, Fratoianni aveva cominciato a dire a noi l'agenda Draghi si compra in cartoleria, queste frasi, e quindi loro si sono incavolati. Cosa ne pensi, Pizzul? No, penso che alla fine... Io sto trascurando la vincitrice, ma di solito, come quando l'Inter vince lo Scudetto si parla del Milan. No, facciamo un altro contrario. O il contrario, quando il Milan vince lo Scudetto si deve parlare dell'Inter. No, allora, io convengo sul fatto che il ragionamento si deve fare sui punti programmatici, tant'è che in Lombardia, prima di questa parentesi delle elezioni nazionali, si era fatto un ragionamento su dei punti e si stava percorrendo un cammino smussando un po' gli angoli. A livello nazionale, da un lato non c'è stato il tempo per fare questo lavoro, dall'altro oggettivamente quell'inizio di agosto è stato un po' schizofrenico dal punto di vista anche delle dichiarazioni. Però è vero, perché fra i tuoi anni, perché allearsi con uno e poi dopo dire che tanto l'alleanza è solo elettorale e non è politica? Cioè la gente non la capisce sta roba. Questa è una bella domanda. Io stessa non la capisco. È una bella domanda che ha molto a che fare anche con le dinamiche interne al PD. Cioè c'era la base sinistorsa che... Il PD, una parte del PD è sempre stata convinta storicamente che non bisognasse avere nemici a sinistra e questo era un modo per rassicurare... E quindi tenersi dentro questi qua. Tenersi dentro anche questa parte che era di fatto, dal punto di vista numerico, lo si è visto anche dagli esiti, minoritaria e... Però hanno fatto più di più Europa, eh? Sì, ho capito, però... Più Europa senza di loro. Vediamo i collegi di Milano, Jacopo. Ci aiuti a leggere i collegi di Milano? Perché devo dire che Milano è quella dove il centrosinistra ha preso tre collegi, che ne ha presi tanti, considerata la fotografia nazionale. Da cosa vuoi partire? Dal Senato partiamo? Sì, sì, sì. Allora partiamo dal Senato dove appunto c'è l'affermazione di Misiani, centrosinistra con il 39,1 a fronte del 33,3 al centrodestra con la Cantù e poi un risultato importante del terzo polo di l'Italia sul serio, con il 16,3% e con un nome importante di quella coalizione come Scalfarotto. 6,8 il 5 Stelle con Casalino, 5 Stelle che più o meno è rimasto sempre sotto il 10% qui, salvo rarissimi casi, mentre Milano soprattutto è stato, non è stata poi una sorpresa, ma in realtà in tutti i collegi, lo vedremo, il terzo polo fa un risultato ottimo perché Milano città... Vediamo gli altri collegi della Camera? Anche l'Internet ricco, tra virgolette, ha premiato questa soluzione di Azione Italia Viva. Vediamo anche collegio, questo è collegio alla Camera, sì, dove ha vinto Tabacci contro Mandelli, uno scarto di 3 punti percentuali, vedete sempre Azione Italia Viva Sopra abbondantemente al 10%, sale il Movimento 5 Stelle che appunto vi dicevo rimane sotto il 10% ma è più verso il 9%, è stato più il collegio di Misiani e di Casalino in particolare per il Movimento 5 Stelle rimanere un po' basso, diciamo così. Il Movimento 5 Stelle è alto 5 Stelle, sono alti anche qua, andiamo a vedere un altro della Camera, quello di Della Vedova? Sì, anche qui centrosinistra che vince con Giulio Tremonti che però è anche candidato al plurinominale per cui credo non ci siano problemi a passare, in realtà Della Vedova lo stacca e non di poco perché sono oltre 7 punti percentuali, qui addirittura Pastorella del Terzo Polo supera il 20%, un'affermazione importantissima, è il collegio dove ha preso di più sostanzialmente. E lei passa perché è recuperata dal plurinominale, giusto? Credo di sì e comunque lo merita perché Giulia Pastorella è veramente una bravissima politica ed è già in Consiglio Comunale quindi a questo punto sarebbe una promozione. Esatto. Ne abbiamo altri, no? Basta? Forse ce n'è uno, credo, o no? Quello di Tabacci l'abbiamo visto. Vinti dal centro-sinistra sono solo questi. Vinti dal centro-sinistra sono solo questi. No, no, quelli vinti dal centro-sinistra e poi ci sono quelli ad esempio di Fiano e Rauti. Vediamolo quello, vediamo anche quello. Sì. L'altro del Senato, il Senato, eccolo qua. Cosiddetto Sesto San Giovanni, anche se aveva detto. Sì, c'è dentro il mio municipio, c'è il municipio 8. C'è il 8, c'è il 9. Sì, Isabella Rauti che ha preso il 45 per cento. La cosa importante è che ha vinto anche a Sesto, perché il collegio ovviamente era un collegio che comprendeva diversi comuni, da Legnano, anche alcuni municipi di Milano. Sì, l'8 e il 9. L'8 e il 9, ma la cosa importante è stata la vittoria a Sesto San Giovanni. L'ex, ormai ex ex. Ex ex. Stare in grado d'Italia. Anche, devo dire, un collegio dove ci sono stati colpi bassi, perché i sindaci di alcuni paesi hanno preparato una lettera contro la Rauti da mandare a tutti i cittadini, che non mi sembra che il sindaco... Voi l'avete denunciata questa cosa. Sì, hanno preso posizione. Devo dire che la scelta di fare quel binomio Rauti-Fiano forse si poteva risparmiare da una parte e dall'altra, si poteva evitare, francamente. Si sapeva che finiva male, sostanzialmente. Anche se Fiano è nel mio Milan Club Parlamento, quindi... Fiano, in realtà, quando l'abbiamo candidato non sapevamo che avesse Rauti dall'altra parte. No, ma penso fosse reciproca la cosa. Che nessuno dei due sapeva l'altro. Sì, è stato un po' casuale. Allora, sentiamo l'altro pezzettino di Letta, in cui dice che praticamente se ne va. Però c'è una questione che volevo chiedere a Pizzul. Sentiamo l'altro Letta, che si chiama Letta su congresso. All'altro Letta pensavo Gianni, no? I prossimi giorni ovviamente faremo tutte le analisi e tutto quello che è necessario. È evidente che errori ci sono, ci sono stati, ma insomma io faccio una scelta che è la scelta nell'interesse in questo momento massimo di un partito che ha bisogno ora di avviare la costruzione di questa legislatura, di convocare il congresso e credo che sia molto meglio che sia io a convocare il congresso piuttosto che ricominciare altre dinamiche che farebbero soltanto perdere tempo. Quindi il mio è un gesto di amore nei confronti di questo partito e ripeto, poi la mia leadership del Partito Democratico finirà non appena il congresso avrà a breve individuato una nuova leadership del partito. Quindi lui dice io traghetto il partito verso il congresso ma non mi ricandido. Però io sinceramente non ci ho visto una vera autocritica. Cioè lui dice me ne vado perché ho sbagliato, abbiamo sbagliato, però non dice in cosa ha sbagliato, non dice l'accusa che gli stiamo facendo tutti, io dovevo scegliere o di qua o di là, che ha avuto una campagna elettorale un po' indivaga, se adesso dovessero chiedere, se arriva un extraterrestre e ci chiede qual era il progetto di Letta, io non so cosa rispondere, a parte fermare la destra. No, è stato puntato molto sulla contrapposizione e la polarizzazione dello scontro o noi o loro. Eh ma loro no perché sono cattivi, ma non noi siamo più buoni. No ma certo, oggettivamente questo è stato un limite, un errore sicuramente è stata questa polarizzazione che non ha fatto emergere quelle che erano le proposte in positivo del Partito e anche io non le so. Jacopo tu sai le proposte del PD? No, beh anch'io ho notato questa polarizzazione, ha puntato molto su quelle cose che lo distinguevano, che però erano ad esempio i diritti civili, determinate cose che in tutta onestà poi hanno portato Letta a fare una campagna contro piuttosto che una campagna... Ma tra l'altro al di là dei colori scelti per la campagna che Casoni avrà sicuramente apprezzato anche la Frasinetti, però per il resto questa contrapposizione oggettivamente non ha pagato. È stata una scelta comunicativa che... L'ha fatta da solo? No, è stata una scelta chiaramente... Condivisa? Condivisa ma soprattutto una scelta fatta dai consulenti della comunicazione. Complimenti! Ho capito, però... Prendeva a me... E non lo so... Mi chiedevo anche meno soldi probabilmente. No, per carità, sicuramente, però col senno di poi è facile dirlo. Quando sei in mezzo al guado, la teoria era chiamiamo raccolta tutti i nostri, perché abbiamo timore che possano non recarsi alle urne, marcando questa dimensione della diversità. Della destra pericolosa, cattiva, sovranista, fascista, le solite cose. E' un errore anche perché il tema è di convincere anche soprattutto gli indecisi. Guardate, non abbiamo ancora citato, però, la quota di coloro che non sono andati al voto, 38% circa, che ormai, come accade ormai da un po' di elezioni, sono sempre il primo partito, no? Questi che non vanno al voto. Lì dentro, secondo me, c'è anche una parte significativa di coloro che non hanno trovato una proposta credibile all'interno del PD, ma anche all'interno di altre coalizioni. La dico così. Quelli che volevano votare, Giorgia Meloni, sono andati alle urne. Ma anche ex elettori della Lega non sono andati, secondo me. Ma certo, quindi non hanno trovato un'alternativa credibile. E tra l'altro, l'altro elemento che è un po' passato e che è stato fatto intuire anche da questa campagna contrappositiva di noi del PD, è quello che il risultato fosse già scritto. Perché tutti dicevano, tanto vince la Meloni, no? E di fronte a una roba di questo tipo, la campagna contrappositiva rischia di scoraggiare, dicendo, beh, ha già vinto la Meloni, cosa faccio alla fatica di andare a fare? Un po' ha già vinto la Meloni, un po' loro non vogliono la Meloni, ma loro cosa dicono? No, ma tra l'altro, per dire, Letta non ha detto qualcosa sbagliato, però ha lanciato l'amo. E lì critico un po' i colleghi giornalisti. Ho seguito la conferenza stampa, alla fine c'era la possibilità di farle domande, non uno che gli ha fatto la domanda, il segretario. Ha detto di alcuni errori, ma ce li ha spiegato. Eh beh, io non ero lì, se no, ti giuro che gliel'avrei chiesto. Non è stata fatta questa domanda, quindi. Va bene, mandiamo la fascia, poi analizziamo invece l'Italia sul serio e Fratelli d'Italia, tra poco. Allora, vediamo i collegi, parlando anche, poi dopo vi leggo anche i giudizi della stampa destra sulla vittoria della Meloni. Jacopo, hai una fotografia dei collegi da farci vedere? Ma, più che altro, se si va sul sito del Viminale, c'è già anche il numero di collegi uninominali assegnati a quale coalizione. E quindi si vede che, ad esempio, per quanto riguarda questa è la Camera, i candidati uninominali eletti dal centro-destra sono 121, a fronte del centro-sinistra che ne ha 12 e il Movimento 5 Stelle 10. Se si va al Senato è anche peggio per il PD e il centro-sinistra, perché 56 vanno al centro-destra, come vedete, 5 al PD e ai suoi alleati, esattamente come quelli presi dal Movimento 5 Stelle da solo. Ma l'Italia sul Serio ne ha 0 sugli uninominali, è per forza. Ne ha 0? L'Italia sul Serio non ha, sì sì, non ne è passato uno, certo. Questi che vedete sono i seggi del plurinominale che dovrebbero avere, al Senato sono 9 e 21 per adesso alla Camera, l'Italia sul Serio, perché ci sono poi quelli da assegnare ancora, perché non sono ancora tutti assegnati, probabilmente è questione di resti, anche, eccoli qua, 21 per adesso per Calenda e i soci, siamo a 30, ovviamente qualcuno in più magari arriverà, ma non lo so, bisogna controllare i resti. Allora, il segretario di Stato USA ha detto, ansiosi di lavorare con l'Italia, partner prezioso. Il Cremlino ha detto, benvenute forze più costruttive con Mosca. Per Orban è una vittoria meritata. Marine Le Pen, il popolo italiano, ha eletto un governo sovranista. Il ministro degli esteri spagnolo, mentre il leader di Vox, anche lui, ha fatto i complimenti, il ministro degli esteri spagnolo ha detto, i populismi finiscono sempre in catastrofe e la stampa turca dice, la Meloni, la nuova Mussolini. Sentiamo la Meloni, mamma mia, sentiamo la Meloni. Dagli italiani, in queste elezioni politiche, è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale oggettivamente, anzi abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, una campagna elettorale nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna elettorale violenta, una campagna elettorale aggressiva, che noi abbiamo subito perché la responsabilità era di altri. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Chi sono queste persone che non ci sono più e a cui ha dedicato la vittoria? Ma io penso... Dillo Paola. Ai ragazzi ammazzati negli anni 70. Tipo Ramelli. Esatto. E poi non solo, anche una generazione più anziana che comunque è stata in Catarella, cioè ci sono anche dei personaggi... A me è venuto in mente che magari si riferiva ad Almirante, no? Ad Almirante. Anche? Sì, anche. A Rauti. A Rauti. Insomma, morti per una questione generazionale, c'è una generazione che non c'è più. Quando parla di riscatto cosa intende? Quando parla di riscatto intende le persone che hanno dovuto... non hanno potuto esprimersi perché c'era una violenza, una sopraffazione notevole. Cioè, banalmente io a scuola, a 15 anni in assemblea, non potevo parlare. Perché c'era una predominanza della sinistra. Era una ragazzina normale, senza avere delle caratteristiche violente. Eppure mi dicevano, no, tu non puoi parlare. Così migliaia di ragazzi. Non mi sembra una cosa normale. Quindi tu dici che lei si riferisce a quello quando lei parla di riscatto. No, quando dice il riscatto, il riscatto è anche banalmente quello che va in una scuola pubblica e non può deviare dalla linea sindacale che è decisa. Cioè c'è stata un'egemonia culturale, tu dici della sinistra? Infatti lei dice, il mainstream lo definisce. Quindi chi ha avuto delle libertà negate si riferiva sicuramente a quel clima, ma non solo quello... Che però non c'è più da tanto tempo. No, ma non solo quello, stavo dicendo, caratterizzato da scontri ideologici, ma anche quello della persona che comunque, siccome c'è una preminenza culturale della sinistra, magari ha dovuto limitare la propria libertà di espressione. Albanese, tu sei d'accordo con tu che non si è schierato a sinistra, il terzo polo, tu sei d'accordo con questa visione? Ma quale visione? Quella che Frasinetti interpreta della Meloni, cioè che c'è sempre stata una predominanza egemonica. Lui ha detto, per aiutare il dibattito, lei ha detto tre volte persone normali. Questo definirle normali vuol dire che non stiamo parlando di scontri ideologici. Allora, è chiaro che c'è sempre stata una contrapposizione, anche politica, soprattutto nei momenti elettorali, del contro la destra, contro la sinistra. Cioè il nemico era sempre dall'altra parte, no? Sì. E questo non ha sicuramente favorito la crescita culturale, politica, di questo paese. Perché quando il nemico si trova al di fuori, viene indicato in qualche cos'altro, sicuramente l'attenzione passa immediatamente a quel tipo di confronto, invece che ai programmi e alle cose da fare. E questo puntualmente è successo anche questa volta, no? Dove la campagna elettorale dei partiti più importanti si è polarizzata contro l'altro. Non per colpa nostra. Non per colpa vostra, forse, ma comunque più per una contrapposizione ideologica, forse un po' di vecchio stampo, invece che sui programmi, sulle cose da fare. Perché questa è la vera sfida a cui oggi il paese viene chiamato. E adesso loro devono dimostrare di saper fare delle cose, no? Questo punto. Questa oggi è la vera grande sfida. Perché visto che si è parlato pochissimo di programmi, credo che, ecco, probabilmente il terzo polo Italia sul serio invece è quella che ha sprecato più risorse, più tempo, più passione, più attenzione, documenti. Meno promesse. Meno promesse, tant'è vero che era un piano, anche valutato dall'esterno, realizzabile dal punto di vista di costi. E se tu non parli di programmi, non parli di queste cose, ma cerchi il nemico da qualche parte, da una parte aizzi la contrapposizione culturale, politica, che sicuramente in passato era ancora più forte. Dall'altra parte, il giorno in cui ti trovi a dover governare, cominci... Non offre una prospettiva. A proposito di cose concrete, leggevo oggi che la mamma di Giorgia Meloni ha detto che non vedo l'ora che tolga il reddito di cittadinanza. Cosa fate col reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza non si può banalizzare dicendo che noi vogliamo togliere i sussidi a chi ha bisogno. Cioè ci sono delle fasce della popolazione, penso a chi ha degli handicap, penso a chi non può lavorare, ai pensionati che magari hanno 300 euro al mese con cui campare. È evidente che queste fasce sociali deboli vanno aiutate. Le persone che possono lavorare è inutile, bisogna trovargli un'occupazione, non lasciarle sul divano, magari con un altro lavoro in nero. Perché nella testa del Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza doveva servire a trovare il lavoro mentre ti dava il sussidio. I navigator hanno fallito in molte situazioni, anche le agenzie che andavano implementate alla fine da una verifica è venuto fuori che il 50% dei percettori avrebbero potuto trovarsi un lavoro. Non era in difficoltà, quindi il sistema va rivisto. Quindi lasciare un sussidio a chi ha bisogno, però rivedere il problema della modalità di soldi a pioggia. Poi non si facevano verifiche, c'erano persone anche con dei precedenti penali che percepivano il reddito di cittadinanza. Tutti i collegi che ha preso il Movimento 5 Stelle li ha presi al sud, vero Jacopo? Sì, soprattutto in Campania, soprattutto dei 5 del Senato, 4 sono in Campania, 1 in Sicilia, dei 10 della Camera sono, se non ricordo male, 6 o 7 in Campania e poi Sicilia, Puglia e Calabria. Uno a testa, quindi sono 7 in Campania. Questo fa pensare? Quello è, si sapeva che il voto arrivava da lì, si sapeva bene che quello era il vaccino dal quale poteva attingere Conte e devo dire che l'ha fatto nel miglior modo possibile per lui. Va bene, allora ci fermiamo, poi analizziamo invece il risultato dell'Italia sul serio che a Milano è andata molto bene, in Lombardia in generale anche a Milano, a tra poco. Rieccoci, allora parlavamo prima di passare a Calenda, nel Partito Democratico un grosso sconfitto è stato Cottarelli, giusto Jacopo? Che è stato sconfitto da Daniela Santanchè nel collegio di Cremona. Ce l'abbiamo qui, eccolo qui, ve lo faccio vedere, addirittura prende il 27 e 37 Cottarelli, il 52 e 17 Daniela Santanchè. Risultato, sì tu dici lo sconfitto è lui, lo sconfitto è anche il Partito Democratico secondo me che alla fine rischia di aver forse bruciato l'uomo che non io o Adriana Santacroce ma buona parte del Partito Democratico aveva sostanzialmente candidato in pectore a fare il candidato per le regionali l'anno prossimo in regione Lombardia, per cui comunque è un altro dato che va a sommarsi a quelle che sono le varie sconfitte forse. Però Pizzul sta precisando che Cottarelli viene ripescato dal plurinominale. Sì, però quel dato lì rimane in un collegio di nominale in cui prende veramente poco. Io devo confessare che fin dall'inizio non ero un tifoso di Cottarelli candidato in regione Lombardia, magari anche per conflitto di interessi, però a di là delle battute. Allora Cottarelli è albanese, lo volevate anche voi in realtà, ve lo contendevate? Beh sicuramente. Sarebbe stato un candidato per la regione Lombardia che magari vi faceva rimettere assieme. Certamente, però mai dire mai anche perché adesso il terzo polo, cioè Italia su serio, ha un progetto di evoluzione, di allargamento anche di quelle che sono le opportunità di ingresso e di altre figure politiche che vogliono trovare in questo nuovo polo allargato del centro una collocazione adeguata a quelle che sono le loro aspettative. Mi sta scrivendo un parente di Giulia Pastorella. Sì, bene. Che è un nostro opinionista dello sport. Allora, albanese, vediamo i dati di Milano, perché Calenda, Milano ha fatto molto bene. Prima, gli parlavamo sopra, non abbiamo sentito quello che ha detto Jacopo, che è stata un po' una provocazione. Tu cosa hai detto? Che Calenda lo votano i ricchi, la borghesia? Hai detto una cosa del genere o me la sono sognata? No, 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 l'ho detto, nel senso che oggettivamente anche nell'Interland di Milano ci sono dei posti in cui ha avuto un'affermazione incredibile. Ne dico uno, tanto perché lo conosce tanta gente, perché sa, Milano 2, tra l'altro il feudo di Berlusconi fino all'altro ieri, ci sono dei dati di Azione Italia Viva che sono incredibili. E lì c'è un reddito pro capite medio che è decisamente più alto della media, scusate. Il sindaco è il sindaco che ha contato. Il sindaco di Segrate è del PD, no? No, 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 il sindaco di Segrate è un civico che però se proprio dovesse scegliere, secondo me, sceglierebbe Renzi e non è il PD. Allora, vi votano solo i ricchi? No, per favore. E no, però bisogna... No, quella è esclusiva del PD. Ed è il PD che è votato dai ricchi. Più Europa, ancora di più più Europa. Ma no, sembra che in Italia tutte le volte che uno ha un programma che è logico, basato sulla competenza, chiaro, con le coperture finanziarie, allora lo votano solo i ricchi. Io invece so, perché ho girato in campagna elettorale, tutti i comuni dell'Abrianza... Siete andati anche nei mercati? Altro che mercati, mercati, RSA, abbiamo incontrato disoccupati, abbiamo incontrato persone del terzo settore che dedicano la loro vita all'assistenza degli altri. Io ho trovato tantissimo interesse nei confronti del nostro programma, tant'è vero che il risultato elettorale a Monza e Brianza è stato molto, molto buono. Però vi aspettavate di più. No, a Monza e Brianza... No, no, a Monza e Brianza, a livello nazionale vi aspettavate di più. Calenda parlava addirittura del 10%. Allora, in realtà, quello che è un po' la delusione, secondo me, è quello che dicevamo prima, cioè che ci si aspettava da parte degli elettori un'attenzione ancora maggiore, cioè si voleva sfondare questa soglia del 10% e cosa che invece non è avvenuta. È un po' in contraddizione con quello che invece sembrava l'orientamento anche un po' percepito di voto. Detto questo, però, in molte regioni, in molte città, l'Italia su serio è andata molto bene, non solo a Milano, è andata molto bene a Bergamo, in tante città... Soprattutto in Lombardia, no? Devo dire che la regione dove forse siete andati meglio, mi sembra sia la Lombardia? Anche in Piemonte. Anche in Piemonte. Jacopo, dici? No, per corroborare, non la mia per forza di tesi, ma anche quello che stava giustamente dicendo Albanese, io vi faccio vedere quello che è il dato nel municipio 1. Cioè, ragazzi, ha preso il 30,34, è nettamente il primo partito, azione Italia Viva Calenda, rispetto a un 23,2 del Partito Democratico, un 19, poco più di Giorgia Meloni, 30,3 nel centro di Milano. Adesso, senza voler dire, però, oggettivamente il reddito pro capita è più alto che altrove. Più Europa quanto ha fatto? Nel centro di Milano più Europa quanto ha fatto? Che è l'altro partito cosiddetto dei ricchi. Ha preso poco, ha preso più di altrove, però ha preso il 5,5, cioè non è che ha sfondato completamente. Addirittura Alleanza Verdi Sinistra ha preso il 4,2 e più Europa il 5,5. È Calenda che prende il 30,34. Mamma mia, nel municipio 1. Ok, Pizzul cosa volevi dire? Volevo dire che io ho la percezione... Chi è il partito più dei ricchi? No, ho la percezione... Nessuno ha il partito dei ricchi, alla fine, anzi, io mi sento proprio meno quella roba lì. Ma io ho avuto la percezione netta che quello sia un voto, soprattutto a Milano e in altre cose, anche per dare un segnale al Partito Democratico. Sono d'accordo. Che non è stata gradita la linea tenuta dal Partito Democratico su diversi aspetti, tra cui la polarizzazione... Cioè tu dici l'elettore del PD che voleva mandare un segnale al PD che così non va, ha votato loro? Ha votato loro, si è astenuto. Non 5 Stelle? No, assolutamente. Quello è successo al Sud, qui è andato più su di loro. Centro a Milano ha votato loro. Il che vuol dire che inevitabilmente il Partito Democratico deve dialogare con loro. Eh, ma dovevano far pace. Calenda con chi verrà. Allora, ma con chi verrà. Nel frattempo c'è un appuntamento... Che è il congresso. No, che è il congresso, che sono le regionali. Ah, certo. Sulle quali dobbiamo tentare di capire come un centrodestra che è... Adesso devono decantare un po' le cose, no? Perché c'è il calendo nervosissimo. E poi ha un problema il centrodestra qui, che si è ribaltata la gerarchia all'interno. È una regione Lombardia, attrazione leghista, adesso deve fare i conti. Adesso dobbiamo vedere se Fontana esiste ancora oppure no. Questo non lo so, bisogna chiederlo a lui. O alla Moratti, chi lo sa. O alla Moratti. No, lo chiediamo anche a loro. Prima però volevo fare sentire Calenda. Chiedo a Lambra, per favore, se mi fa sentire, era previsto nella seconda parte, ma lo sentiamo adesso Calenda 5 Stelle, perché in realtà parla anche della destra. Sentiamolo, per favore, così chiudiamo questo discorso. C'è stata una scelta molto chiara e molto netta. Gli italiani hanno scelto una maggioranza di destra sovranista. Noi la consideriamo una scelta molto pericolosa per il Paese. Nei prossimi mesi quello che accadrà è che la divisione netta in tre poli risulterà ancora più forte. Riteniamo, cioè, che il Partito Democratico... Ok. Ok. Una scelta molto pericolosa, sei d'accordo? Sì, ma... Perché volevo che lo dicessi con lei qui. Penso di poter interpretare le parole di Carlo Calenda. Quando si riferisce a scelta pericolosa, toglierei la parte ideologica. Qui non stiamo parlando di una preoccupazione di una destra... Del fascismo, sì. Assolutamente no. Il pericolo che sta evidenziando Carlo Calenda è il pericolo legato alle competenze di governo. Sì. Noi siamo un partito che crede molto nella competenza e nel cursus honorum, cioè nella possibilità di arrivare al governo, soprattutto nelle funzioni chiave, dopo aver ricoperto una serie di ruoli istituzionali. E secondo voi loro non hanno una classe dirigente? No, invece l'azzolina con i banchi all'hotel... No, no, lo vedremo questo, lo vedremo presto. Cioè, questo si vedrà immediatamente. Sicuramente, però, adesso senza puntare il dito contro nessuno, però se avessimo dovuto scegliere fra un governo nuovo con un punto di domanda e il governo che avevamo a guida Draghi, ma non c'è dubbio che avremmo scelto Draghi tutta la vita. Sì, sì, voi sicuramente avete fatto della campagna elettorale Draghi la bandiera. Credo anche il PD, cioè un governo a trazione di Draghi era un governo di competenza, di crescita, di coerenza, di stima verso l'estero, di rispetto, di atlantismo, di europeismo, eccetera. Cosa che adesso bisogna vedere. Quindi loro dicono abbiamo timore che non siate abbastanza competenti. Ma insomma, guardiamo i nomi dei governi espressi dal centro-sinistra o dai tecnici, non mi sembra che ci fossero persone con grandi competenze, con tutto il rispetto. Abbiamo avuto un ministro dell'istruzione che non è azzecata una, Di Maio, Toninelli, mi sembra anche che fosse ministro. Toninelli era ministro dei trasporti. Ma adesso di cosa stiamo parlando, su per favore. Sì, sì, no, ma... No, 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 ecco, stiamo dicendo. No, ma non è che stiamo... Giallo-verde. Era giallo-verde quella. Eh, ma giallo-verde quella. Beh, la solina era giallo-rosso, però. Ma io non ho detto niente. La solina è giallo-rosso. La solina è giallata negli ultimi anni da questi governi fatti appunto da tecnici, fatti da Anciucci, di Palazzo. Adesso governerà chi ha deciso il popolo. Adesso c'è una maggioranza chiara, devo dire. Gli italiani hanno deciso, noi abbiamo tantissime persone competenti, siamo una classe dirigente che si è fatta col curriculum nelle istituzioni. Loro governano in tante regioni, no? Governiamo in tante regioni, chiunque ha fatto l'assessore, quindi insomma non vedo... Crosetto farà il ministro? Questo io non lo so. No, perché lo danno tutti come ministro in pectore. Io non so se... Magari fa il sottosegretario della presidenza. Magari fa il sottosegretario. Io non so chi saranno i ministri, io mi fido della mia leader e saprà scegliere per il meglio. Ma, ripeto... E con l'avallo di Mattarella, e questo perché sarà poi Mattarella che li nomina i ministri. Sì, io penso che porti... No, perché ci ricordiamo che ad esempio nel governo giallo-verde Savona, a Savona Mattarella aveva detto di no. Cioè è successo un precedente e ce l'abbiamo. Secondo me non ci sono nomi che possano infastidire il Presidente della Repubblica. Sperem, da un certo punto di vista. No, volevo citare una cosa un po' curiosa. Washington Post ha fatto un reportage su George Ameloni. Washington Post è un giornale di sinistra, quindi è tendenzioso. Però ha detto una cosa che secondo me è così, se non altro, suggestiva della serie. George Ameloni, quando ha incontrato il corrispondente del Washington Post, era molto decisa quando si trattava di parlare di temi economici, di temi politici, eccetera, eccetera. Sociali. Però parlava sottovoce quando si trattava di prendere le distanze dal passato. E scriveva il giornale di Washington Post, sarà premier probabilmente Giorgia Ameloni nel centenario della marcia su Roma. Lì vogliamo sentire parole belle e forti però. Ancora con sta storia. L'italiano per fortuna ha dimostrato che del fascismo non gliene frega. Ho detto una curiosità. No, ma non gliene frega niente, più parlate del fascismo, più voteranno Giorgia Ameloni. Siccome Giorgia Ameloni sarà il premio di tutti gli italiani. Parliamo di cento anni fa. Sì, però siccome Giorgia Ameloni sarà il premio di tutti gli italiani, quindi premio era anche mio, mi auguro che faccia sentire bene la sua voce solo questo. E allora anche il 25 aprile che voglio vedere che cosa succede. Viene prima l'anniversario della marcia su Roma. No, perché anche il 25 aprile succederà. L'anniversario della marcia su Roma penso che sarà oggetto di studi storici. Ma sì però. Cioè io non mi immagino la gente con il rubaccio che andrà, che andrà, che andrà, non scherziamo. È una battuta, però se l'è presa, vedi che il dato è. Ma no, non credo che se la sia presa. No, sto dicendo che ci saranno dei volumi, dei dibattiti storici. Però Ameloni parla sottovoce, lei ha alzato la voce qui. Vabbè, vedremo all'anniversario della marcia su Roma che cosa succede. 28 ottobre. 28 ottobre, beh, è tra un mese, quindi non è tra tantissimo tempo. Il governo ci sarà già il 28 ottobre? Io mi auguro di sì perché c'è bisogno di stringere i tempi. Non lo so perché il 13 vi siediate. Il 13 vi siediate per la camera. Siamo lì. Vabbè, se non altro l'incarico dovrebbe già averlo. Poi non so se avrà già... Pensa se fa il governo il 28 ottobre. Pensa se fa il governo il 28 ottobre. Casoni fa il bravo. Si suicida Pizzolo. Pizzolo si suicida. Ma figurati, io proprio. Va bene, grazie a Fabio Pizzolo, a Fabio Albanese e a Paola Frassinetti. C'è la pubblicità, cambio di ospiti a tra poco. Allora, rieccoci, rieccoci, altro giro, altra corsa. Valerio Federico che era candidato per Più Europa ma... Ma non diciamo niente, ne parliamo dopo. Va bene. Gianmarco Senna della Lega che fa il consigliere regionale non era candidato quindi non stai soffrendo questa sera, né gioendo. Buonasera, grazie. Per te stesso, per il partito. Io non gioendo no, perché... Per il partito sì. Manuel Draghetti collegato via Skype al Movimento 5 Stelle, anche tu non ce l'hai fatta. No, la mia era una candidatura di servizio, ne ero consapevole, però sorrido per la performance generale della mia forza politica. Adesso ne parliamo. Allora, partiamo da Salvini però. Vi faccio sentire un estratto breve del suo discorso di commento alle elezioni, il risultato elettorale. Sentiamo, Salvini. Vuol dire che poi noi internamente ci facciamo le nostre valutazioni su quello che abbiamo fatto bene e quello che potevamo fare meglio. Però diciamo che se sono andato a letto abbastanza incassato mi sono alzato carico a molla. e quindi ho il doppio della voglia, della grinta, dell'energia. Guardo il lato positivo, lo dico alla Micoletta, è meglio avere il 9% e 100 parlamentari al governo che non avere il 18% con 100 parlamentari all'opposizione, direbbe Monsignor della Palisse. Noi oggi commentiamo un dato che non mi soddisfa evidentemente, il 9% non è il dato per cui ho lavorato, ma siamo col 9% in un governo di centro-destra di cui saremo protagonisti. fino a settimana scorsa avevamo il doppio dei voti da usare in un governo che spesso volentieri ci viveva come fastidiosi, ma neanche i coprotagonisti, comparse. Fare il segretario della Lega per me è il regalo più grande che il buon Dio e i militanti che mi hanno scelto mi potessero fare, quindi questo fino a che i militanti lo vorranno lo faccio. Draghetti, hai sentito qualcosa o senti solo me? Sento solo te, purtroppo. Allora, vabbè, sintesi, Salvini, l'estratto di Salvini in cui diceva, adesso vediamo se riusciamo a mettere a posto, però Salvini diceva sostanzialmente che anche se adesso ha meno voti, la Lega in questo governo conterà di più di quanto contava nel governo Draghi perché nel governo Draghi era uno dei tanti, qua è un partito più forte. Poi l'altra cosa dice, sono andato a letto arrabbiato, però stamattina ho ancora più voglia di prima, tutto il mio impegno e il segretario della Lega lo faccio finché lo vorranno i miei militanti. Allora, Senna, lo volete ancora Salvini, segretario? Facciamo due passaggi, è chiaro... Aspetta un secondo, Draghetti fammi segno se lo senti, così... Draghetti mi senti? No, no. Allora adesso cerchiamo di mettere a posto, ok. Sono contento che c'è la volontà di ripartire, è chiaro che è successo qualcosa, non è che ci possiamo nascondere, non è neanche un problema politico, è un problema matematico. Bisogna capire come ripartire. E certo. Matteo Salvini è passato da un congresso, tra anni fa c'è stato un congresso, è stato eletto e poi a cascata, come giusto che sia quando c'è la formazione di un nuovo partito, sono stati fatti i commissari regionali, sono stati fatti i commissari provinciali e commissari comunali. Io penso che in questo momento che ci sono delle tensioni, ed è negabile che ci siano delle tensioni, un congresso regionale in prospettiva del 2023 possa servire per canalizzare queste tensioni, come momento di confronto. Come nel PD? Sì, ma sinceramente a me in questo momento non piace guardare in casa degli altri dove ci sono dei problemi in casa. No, no, però loro faranno il congresso, l'hanno detto, faranno il congresso per valutare gli errori. È chiaro che il fatto di ascoltare la militanza è sempre positivo, ricordiamoci che tra cinque mesi abbiamo un'elezione importante in regione e in Lombardia, abbiamo preso la metà dei voti dei nostri alleati di Fratelli d'Italia, la riflessione deve essere ampia, ma questo può far bene. Vediamo l'evoluzione dei partiti negli anni, per favore. Intanto stiamo cercando di sistemare Draghetti, tu e io poi quando parliamo io e te mi senti comunque. L'evoluzione dei partiti negli anni, guarda ecco Gianmarco, la Lega ha avuto l'8,8%, viene dalle scorse europee con un 34%, prima il 17%, prima il 6%, poi il 4%, quindi c'è stata questa grandissima escalation di Salvini dal 4 al 6, al 17, al 34 e poi il crollo all'8,8%. Guarda il nostro grafico, l'ha fatto anche graficamente il disegno, in cui si vede proprio la Lega che è quella verde, vedi come sale fino all'europea del 19 e poi piomba giù in questi tre anni, cosa è successo in questi tre anni? È chiaro che in questo momento bisogna fare un tagliando e bisogna tirare un po' le viti, non chiudersi, ma non solo internamente, anche all'esterno è qualcosa di sempre negativo, confrontarsi è difficile, è chiaro che confrontarsi sia oggettivamente difficile, però in questo momento è salutare, salutare perché poi si riparte con più forza, magari ci si dice anche cose che non è piacevole sentire. Cioè confrontarsi tra di voi come base di militanti della Lega? A me sembra i fondamentali della democrazia di un partito, io sinceramente faccio politica perché voglio credere in un progetto e voglio condividere… E tu credi ancora nel progetto della Lega? Io voglio rivederlo il progetto in prospettiva di quello che è accaduto, per noi è importante arrivare la regione Lombardia, perché quel saldo da dove siamo partiti nel 2013-2014 con il percorso di Salvini segretario, alla fine è più di quanto noi abbiamo ereditato la Lega in quegli anni lì, poi dopo c'è stato un crollo verticale. Che cosa è successo nel frattempo? Esatto, in questo frattempo. Perché non siamo riusciti a comunicare il progetto ai nostri elettori? Forse magari discuterne e non chiudersi, ma lo dico veramente per fare in modo che ci sono tutte le tensioni che ci sono internamente e che si sentono, possono confluire in qualche cosa che è negativo, diventa positivo e dà uno slancio… Jacopo, volevi dire qualcosa sulla Lega? No, volevo chiedere a Sena una cosa, perché ha detto una cosa assolutamente giusta, cioè che tra cinque mesi si vota e c'è un'elezione importante come quella delle regionali in Lombardia. cinque mesi forse non sono così tanti per provare a rimpostare il tutto, a meno che non ci si muova immediatamente, questo è chiaro che va detto. Ma soprattutto quello che diceva lo stesso Fontana, che ha detto la Lega più volte prima di questa tornata elettorale, cioè il candidato è lui, non se ne parla neanche, si va con Fontana e il candidato è lui. A questo punto viene messo in discussione, perché indubbiamente poi bisogna fare i conti anche con quello che è successo in Lombardia, non tanto solo in Italia, ma anche in Lombardia, dove non è primo partito la Lega a livello di centrodestra. Io ho massima stima di Fontana, che ha gestito la regione in momenti veramente molto, molto difficili. Ed è chiaro che sia il nostro candidato. Il vostro della Lega? Eh sì, adesso non mi sembra che ci sia stata una comunione di intenti, dagli elementi che ho io. Ed è chiaro che un candidato presidente uscente si tenda, se non è una sua scelta di non farlo, a darle continuità. Però più del candidato, che è molto importante, a me interessa veramente il progetto. Cioè a me interessa veramente noi che vogliamo riproporre. Poi dopo, se sarà Fontana, a me fa piacere, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista politico, ma non sono io che faccio questo. No, no, ma poi soprattutto bisognerà capire gli altri due partiti che cosa ne pensano. Per far sì che il mio progetto politico si possa sposare con quello della Lega e vada avanti. Voglio capire perché io devo fare politica in direzione Lega per Regione Lombardia. Qual è il punto di caduta nostra? Certo. E cosa vogliono i militanti? Però tu mi hai detto cosa vogliono i militanti, il congresso, eccetera. Cosa voglio io? Sì, però esatto, io voglio sapere cosa vuoi. Tu, Gianmarco Senna, riferendoti a quello che ha fatto Salvini, pensi che abbia fatto degli errori? Ma allora, se noi ci aspettavamo ed eravamo, beh non vado al 34%, eravamo dietro di 5 anni, eravamo al 18%, eravamo 8%. Rivediamo la grafica per favore, l'evoluzione del tempo dei partiti. 17% qualcosa mi sembra. E ci troviamo all'8,8%. È chiaro che sono stati fatti degli errori. Magari avevamo anche il progetto giusto e non sono stati bravi, non siano stati... Era il 17,3% nelle politiche del 18%. Voglio dire, è una questione matematica, cioè nascondersi dietro al fatto che c'è stato un crollo dei consensi, non serve a cercare di trovare delle soluzioni. Ok, bisogna trovare la soluzione. Non c'è ombra di dubbio, ma l'han detto gli italiani, l'han detto quello che... Sì, però mi ha colpito che Salvini non ha detto, come Letta ha detto, io mi dimetto, me ne vado, porto il partito al congresso, ma io non sarò io a candidarmi. Mi ha colpito che invece Salvini ha detto, io resto finché non mi cacciano. Sostanzialmente ha detto così. Però voglio dire, per onestà e per chiarezza, Salvini è passato da un congresso. Anche Letta? Sì, no, no, certo. Ci sono stati... Noi non siamo il PD, io non penso che ci sia un modello per qualsiasi tipo di partito. Forza Italia ha il suo modello, Fratelli Italia... No, l'ho capito, però un leader di un partito con una sconfitta così grande magari gli viene in mente di dimettersi. A prescindere dal congresso o dal non congresso, questo sto dicendo. Però bisogna essere anche onesti intellettualmente, c'è stato un percorso dove con Matteo Salvini siamo usciti dalle secche di una situazione... No, no, certo, certo. Va bene, sentiamo anche gli altri. In questo momento bisogna ragionare sulla Lombardia, su Milano, sulle province, parlo per quello che è la Lombardia. Sento che anche in Veneto, in Friuli, in Piemonte e in altre regioni stanno facendo dei ragionamenti. Ok, ci fermiamo, adesso coinvolgiamo anche gli altri. Adriana, se vuoi, per la Lombardia questi sono i dati del centrodestra di questa tornata elettorale, lo vedete, c'è la Meloni che ha 27,6 e la Lega che ha 13,8, 13,9. Quindi più del doppio. Questa è la situazione in Lombardia per il Senato, ovviamente si può fare il conto mettendo insieme i vari unilominali. Ok, pubblicità e poi sconvolgiamo anche gli altri, a tra poco. Allora, abbiamo sentito l'analisi che fa Senna sul crollo della Lega, abbiamo sentito anche le parole di Salvini e vediamo, l'abbiamo fatto una grafica che abbiamo chiamato i Borsini e come nelle partite di calcio, no? Il Borsino sono i leader che sono andati bene e quelli che sono andati male. Adesso so già cosa mi dirà Valerio Federico, che non c'è la Bonino. Eh, ma è andata malissimo, perché nel senso che voi non siete neanche passati. Adesso mi spiegate che volete ricontare le schede. La Meloni è andata bene, 26%, benissimo. Bene anche Berlusconi, perché secondo... Conte 15,4% ha dimezzato i voti, avete detto... No, però rispetto a acqua lo davano per morto. Eh, vabbè, ho capito. Calenda è andato male, perché voleva il 10%, e non ce l'ha. Sulla base di quello che si vuole. Eh beh, certo, Letta sicuramente più del 20% lo voleva, e non l'ha avuto. Berlusconi ha perso quasi la metà dei voti. Ah beh, da questo punto di vista sì, certo. Sono Borsini un po' soggettivi. Allora, Conte, il 15,4%, Draghetti alla fine, io ho messo una freccia in su, però l'amico Federico dice che dovevo metterla in giù, perché in realtà è andato male. Vediamo l'evoluzione della... Diciamo che hanno meno della metà dei voti. Movimento 5 Stelle nel tempo. Jacopo, gliela leggi, tu che ti sente? Il Movimento 5 Stelle è partito nelle politiche del 2013 battendo il Partito Democratico, ricorderete di poco, avendo il 25,6%, poi all'Europee successiva è sceso di qualche punto, poi l'exploade le politiche del 2018 con quel 32,7% e poi la discesa per l'Europee del 2019 aveva perso con la Lega che l'aveva sopravanzato e rampava con Salvini, in realtà si aspettava qualcuno addirittura un crollo sotto il 10 all'inizio di questa campagna elettorale di Conte, poi pian piano ha rimontato, forse ha rimontato anche più di quanto le più rose aspettative della vigilia voleva. Per quello noi l'abbiamo messo con la freccia in su, mentre invece Federico dice ma in fondo hanno dimezzato i voti. Ma no, ma dipende che parametro ci diamo, se no è sempre la solita storia, vincono tutti, io non vengo qua a dire che abbiamo vinto perché purtroppo per poche migliaia di voti non abbiamo avuto il 3%, ma dai 12 ai 14 voti in tutta Italia. Draghetti, allora siete andati bene o male? Io penso che la performance sia migliore delle aspettative, io sinceramente personalmente mi aspettavo un 13%, quindi ogni voto in più rispetto a quella sticella che mi ero fissato era sicuramente un elemento positivo. Ricordo comunque che anche nella serie storica che ci è stata fatta vedere siamo sempre stati sopra la doppia cifra, non siamo mai scesi sotto il 10% da quando siamo praticamente sbarcati in Parlamento, chi ci dava per morti completamente sotto la doppia cifra dopo una scissione che è avvenuta veramente pochissimo tempo fa, dopo comunque una responsabilità di governo in questa legislatura e si sa benissimo che chi governa di solito perde consenso e soprattutto dopo un governo Draghi che era in qualche modo un po' l'antitesi della nostra storia, dei nostri valori e che abbiamo appoggiato per senso di responsabilità ci davano praticamente tutti per morti. Io in qualche modo rinvio i nostri funerali ancora alle prossime politiche forse, a cui saremo ancora la nuova sorpresa, perché molto spesso vediamo questi statisti, ma non parlo solo del Movimento 5 Stelle, parlo in generale dell'andamento e della percezione degli italiani, del voto degli italiani, che non ne imbroccano mai uno, quindi c'è stato un esploadio... Aspetta Manuel, scusami, tu prima hai parlato di una scissione, come se in qualche modo la scissione di Di Maio potesse in qualche modo danneggiarvi, Jacopo ci fai vedere com'è andato Di Maio, perché Di Maio è proprio stato un disastro. Allora, Di Maio, questi sono i dati, vi li faccio vedere, Di Maio praticamente nel suo condominio più o meno, perché fuori grotta è casa sua sostanzialmente, ha preso il 24 e 41, con l'ex ministro Costa, che sotto il vessillo del Movimento 5 Stelle, l'ha quasi, non dico doppiato, ma ci è andato vicino, perché ha preso il 39 e 72, sostanzialmente questa è una delle notizie certe di questa elezione, è che Luigi Di Maio, con la politica, probabilmente ha chiuso qua. Quindi non è che la scissione di Di Maio vi ha danneggiato molto? No, no, però, come dire, era stata fatta affidamento rispetto a questa scissione, da parte soprattutto dei vertici del Partito Democratico, quasi come se quella scissione avesse avuto la forza di drenare consenso al Movimento. E invece è zero. E poi, permettetemi una battuta, giusto per togliermi qualche sassolino dalla scarpa, posso dire che il ministro uscente Di Maio rispetta gli impegni elettorali, perché aveva promesso che dopo due mandati non sarebbe più tornato in Parlamento e così è, per sua volontà o meno, ma così è. Comunque c'è da dire che il Movimento 5 Stelle, oggi lo dicevamo in redazione, aveva promesso tre cose, le ha fatte tutte e tre, cioè ha promesso il reddito di cittadinanza, fatto, taglio dei parlamentari, fatto, non più di due mandati, fatto, quindi forse in qualche modo la coerenza ha pagato, visto che come dicevano... Aggiungerei anche il super bonus, aggiungerei, che comunque magari non era stato definito esattamente così durante la campagna elettorale 2018, ma si era comunque spinti per forti politiche ambientali legate all'edilizia, quindi anche questa è una misura che soprattutto al nord va rivendicata. Allora, vi faccio sentire, abbiamo sentito Salvini, sentiamo adesso Conte. La mia riflessione, proprio 30... no, 5 secondi. C'è chi vuole associarci al partito del sud, noi non siamo al partito del sud, abbiamo comunque percentuali molto buone anche nel nord, nel centro nord, con picchi anche del 12-13% in Piemonte e è ovvio che il nostro bacino maggiore in questa tornata è stato al sud e è proprio per questo che l'impegno in primis del sottoscritto e di tutto il movimento sarà anche di rivolgerci ancora di più all'elettorato i cittadini del nord proprio per avere una maggiore loro fiducia. Questa è l'unica cosa su cui mi sento di dire che il movimento deve lavorare. Però Jacopo, i collegi uninominali loro li hanno presi al sud? Solo al sud, quasi tutti in Campania, lo ripetiamo, uno al Senato e uno alla Camera in Sicilia e alla Camera uno in Calabria e uno in Puglia. Tutti gli altri dei 15 presi in totale tra Senato e Camera dal Movimento 5 Stelle sono della Campania. Allora sentiamo Giuseppe Conte a caldo. Il Movimento 5 Stelle in questa prospettiva ha compiuto una grande rimonta. siamo la terza forza politica, il centrodestra sarà maggioranza alla luce di questi dati nel Parlamento, non è maggioranza nel Paese. Purtroppo questo cortocircuito è frutto di una legge elettorale che noi non condividiamo affatto. Un altro dato politico che vorrei sottolineare è che il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito al sud, chi tocca il reddito con noi troverà una barriera, un'argine per quanto ci riguarda insuperabile. Lo dico subito, lo dico subito. Il Paese è in grandi difficoltà, c'è un'emergenza economica e sociale pazzesca, chi pensa di toccare il reddito dovrà fare i conti con noi. Federico parto da te, perché voi come liberali il reddito credo sia una delle cose che avete avversato di più. Conte fa questa minaccia, a prescindere dal ruolo di più Europa, però politicamente quanto ha contato il reddito di cittadinanza e quanto secondo te... Io qua sono con il mainstream, secondo me il reddito di cittadinanza nelle regioni meridionali ha contato in modo decisivo rispetto al risultato del Movimento 5 Stelle. Noi non siamo in partenza contro un reddito di cittadinanza che c'è in tre quarti d'Europa e c'è anche nel nord Europa. C'è una piccola differenza che il nord Europa funziona e da noi non funziona. Funziona anche come collocamento al lavoro? No, funziona soprattutto come collocamento al lavoro. Ecco, perché non solo come sussidio. Mentre chiunque, a me dispiace dirlo, io sono anche di origine calabrese, ma chiunque frequenta il meridione sa che più che qui, anche qui è diffuso lavoro nero, ma molto più che qui è diffuso in modo capillare lavoro nero, lavoro nero con il reddito di cittadinanza è aumentato, soprattutto è aumentato tra chi usufruisce del reddito di cittadinanza. Quindi noi diciamo semplicemente... Perché chiaramente se hai il reddito di cittadinanza non puoi fare un lavoro retribuito legalmente e quindi per tenerti il reddito di cittadinanza lavori in nero. Lo fai in nero. Al sud funziona così? Certo, da una parte aumenta il nero, dall'altra parte la misura costa un sacco di soldi, non porta lavoro, ma... Abbiamo due milioni e mezzo di italiani che in questo momento hanno il reddito di cittadinanza. Ovviamente tutti siamo d'accordo che ci sia un reddito che aiuti veramente... Un sussidio, sì. Un sussidio che aiuti veramente chi ha bisogno. Nel momento che si verifica sul campo che lo strumento per cercare lavoro, per trovare lavoro ha fallito, bisogna modificarlo. La proposta di Draghi, visto che si dice sempre in questi giorni che l'agenda Draghi non c'era, e addirittura l'amico del 5 Stelle ha detto che Draghi è l'antitesi, la politica di Draghi della loro e questo la dice tutta, beh Draghi ha giustamente chiesto duramente di modificare, non di eliminare la misura, come allargando ai soggetti privati la ricerca del lavoro e diciamo... Per renderla più proficua, diciamo. La possibilità di mettere in contatto realmente chi cerca lavoro da chi lo offre. Ma questa è una ovvietà e il Movimento 5 Stelle prende voti, prende una parte, una parte consistente dei voti sulla base di questa misura, ci sta che loro la difendano. Poi se mi fai dire magari... Certo, dopo arriviamo su da te. Volevo chiudere il discorso 5 Stelle, però il reddito di finanza l'avete fatto insieme con la Lega? Voi l'avete... È nato nel governo giallo-verde, quindi voi l'avete votato anche voi. A parte che andrebbe diviso chi ha la necessità di avere un sussidio e non ha la possibilità di lavorare con dei percorsi di formazione che ti portano al lavoro. È chiaro che il progetto non ha funzionato e a pensare male si fa peccato. È molto meglio avere due milioni e mezzo, che poi sono quasi cinque milioni di famiglie che campano grazie a un sussidio come il reddito di cittadinanza, piuttosto che fare un ragionamento di prospettiva e aiutare queste persone a uscire dal mondo del lavoro. Cioè tu dici se l'accusa che vi fanno, Draghetti, non so se li hai sentiti. Ho sentito l'intervento di più Europa, non quella della Lega. Chiudo l'intervento. È chiaro che una forma, concedetemi la parola, di voto di scambio è sempre esistita in questo Paese. C'erano i forestali? Una volta si lavorava sui forestali, si lavorava sulle pensioni di invalidità dove non c'era. E adesso c'è il reddito di cittadinanza. Una volta si lavorava sui posti della pubblica amministrazione che non servivano. Adesso è meglio, perché arrivi sempre a rinnovarlo. Quando tu avevi il posto... Draghetti sta dicendo Senna. Adesso è una forma di metadone. Il concetto lo dice chiaro Conte quando parla. Quando dice guai a chi lo tocca. Guai a chi lo tocca, è chiaro, è la loro polizza sulla vita. Allora hai capito? Loro quei voti lì ce li avranno sempre. Poi questo non vuol dire che non bisogna aiutare chi ha bisogno o chi deve... Però allora sta dicendo che è una sorta di voto di scambio, che è la stessa cosa che ha detto De Luca. De Luca in campagna ha detto che il reddito di cittadinanza è un voto di scambio. Cosa rispondi? Io sorrido, non siamo più in campagna elettorale. Io di solito quando porto dei dati sul reddito di cittadinanza, così come su qualsiasi altra misura, cito le fonti, porto dei dati, dei numeri di enti indipendenti. Io qua sento parlare di aumento di lavoro nero, di voto di scambio, di comunque il fatto che non siano coinvolti enti privati, e non è vero, sono coinvolti anche enti privati come le agenzie private, senza citare fonti e numeri. È solo pura propaganda. Vorrei ricordare che ieri gli italiani hanno votato, vorrei ricordare che non siamo più in campagna elettorale, quindi mi piacerebbe che gli ospiti suffraino le loro idee con dei dati oggettivi di enti indipendenti. Detto questo, in tutta Europa, visto che ci sono anche forze politiche che si chiamano Più Europa, in tutta Europa esiste il reddito di cittadinanza. L'Unione Europea ha lodato l'Italia per aver introdotto una serie di misure, tra cui la spazza corrotti, il reddito di cittadinanza, il super bonus e altre. E quindi il fatto che venga accusato il Movimento 5 Stelle di fare del voto di scambio con una misura che esiste in tutto il mondo occidentale, che numeri alla mano, voti presi rispetto ai percettori, rispetto alla stensione, non può essere il fattore determinante del nostro comunque discreto buono risultato. Io quindi rigetto completamente tutte queste accuse che non hanno nessun elemento oggettivo alla base, assolutamente. Do anche un'altra notizia. Il Movimento 5 Stelle nel corso di questi anni, perché ricordiamo che il reddito è stato introdotto anche alla vigilia di una pandemia dove i posti di lavoro si fatigavano a trovare... No, ma nessuno, Manuel, scusami, nessuno mette in discussione l'importanza del sussidio. Quello che viene messo in discussione è la capacità di trovare il lavoro. Esatto, stavo completando che il Movimento ha già modificato più di una volta questa misura. È aptata per introdurre una misura così universale, così epocale, ha bisogno degli anni, quindi noi siamo assolutamente aperti e lo siamo stati, l'abbiamo dimostrato, a delle modifiche migliorative. Ci diano dei suggerimenti anche gli altri parlamentari affinché si possa arrivare a una conclusione che coniughi l'esigenza di dare una protezione sociale a tutti coloro che non ce la fanno arrivare neanche a metà mese con l'aiuto alla ricerca di un lavoro. Ebbè, questo dovrà farlo il governo. Bisogna anche ai passi. Regioni, Està, Regioni, le Regioni si sono riuscite. Cosa farà il governo? Perché i partiti possono dire quello che gli pare, però poi alla fine sarà il governo a decidere. Pubblicità, poi parliamo di Emma Bonino, tra poco. Lo sappiamo fare noi. Abbiamo trovato qualcuno che ha preso lo 0,06, che è quello che mancherebbe a più Europa per arrivare a quel 3% fatidico, non per vedere chi è stato, comunque sono stati quelli del partito animalista, ma per l'ordine di grandezza di quanto manca, eccolo qua, più o meno sono 16.000-17.000 voti, qualcuno dice anche meno, per cui, insomma, questo è, mancava poco, mancava poco. Oggi abbiamo chiesto il riconteggio, anche perché circa 15.000, come diceva Jacopo, appunto, sono un numero nel contesto di un paese di 50 milioni di persone, che sono un dato quasi statistico, è evidente che vada il numero verificato. Voi provate solo a considerare, lo dico a chi segue, Draghetti ci sente bene. No, che abbiamo 600.000, quasi 600.000 voti nulli, annullati nell'occasione di queste elezioni politiche. 600.000, a noi ne mancano 15.000. Quindi se su questi 600.000 ci fosse qualcuno che ha messo la croce su Federico, invece che sul simbolo... Possono essere vari errori, eccetera, comunque diciamo che nella nostra memoria non esiste una tale beffa che naturalmente ha colpito noi, ha colpito più Europa. Voi considerate che solo con quel 15.000-14.000 voti in più, forse saranno meno, forse con il ricorso ce la faremo, noi eleggeremo almeno tre senatori, mentre purtroppo abbiamo eletto solo due deputati. Che sono della vedova... Che sono della vedova e magi. In realtà il dato di più Europa, se vogliamo confrontarlo con il dato delle ultime politiche, siamo saliti dal 2,6 al 2,94%. Vediamo, non i partiti nel tempo, quella della Camera, quella della Camera che si vede, eccolo qua, che vediamo rispetto alle scorse... Sì, la Camera è un po' meno... Era 2,4, però all'Europea era 3,1. 2,4 la Camera, però al Senato avevamo il 2,6. Eccolo qua, 2,6, sì. Comunque diciamo che... All'Europea di solito fate sempre di più. Sì, nell'Europea tradizionalmente sì, nell'ultima Europea abbiamo preso il 3,1%, ma al di là di queste percentuali, vedete, noi facciamo notare due cose, io tengo a fare notare. Tutti i dati oggettivi sono i dati che sono stati registrati rispetto alle presenze nelle televisioni RAI e Mediaset, danno la presenza di più Europa più o meno allo zero o poco più. Allora, io faccio parte del partito che prende la sua origine dalla storia di Marco Pannella e figuriamoci a Mabonino. Io credo che questo dato debba farci riflettere. Cioè, noi, per noi, insomma, chi vince vince, ma perché mai un partito come più Europa deve essere o sottorappresentato o inesistente nelle ultime settimane sui media di carattere nazionale? Beh, allora anche sinistra italiana e verdi. Questo è un dato di fatto, sicuramente il dato può essere che coinvolga altri. Noi vi diciamo, con i dati che non sono nostri, che siamo usciti dalle televisioni nazionali quando contava. Punto uno. Punto due. La questione dei sondaggi. Noi, se lo ricorda bene anche Senna, che è attento alle cose e come funzionano, noi per settimana abbiamo avuto i sondaggi che ci davano all'1,5%, fino a quasi alla fine. E poi scopriamo di avere il doppio dei voti. Allora, voi capite... Cioè, tu dici che un elettore... Un elettore, abbiate pazienza, ma un elettore, se vede che più Europa all'1,2, all'1,5... Non vi vota nemmeno. Dice, ma questi al 3% non ci arrivano. E quindi non li voto. E quindi non li voto. Allora, forse regolare anche i sondaggi, perché i sondaggi non solo danno una fotografia più o meno attendibile del momento, ma orientano inevitabilmente. In questo caso, io lo dico... Cioè, siete stati penalizzati. Beh, insomma, qualcuno che legge... Se avessimo letto nei sondaggi che più Europa si trovava al 2,7, al 2,8, al 2,9... Magari veniva voglia di stare, diciamo così. Probabilmente sì. Quindi ecco, voglio porre la questione dell'informazione e dei sondaggi. Poi fammi dire un'altra cosa, e dico solo una cosa politica, almeno a questo intervento, quello che noi abbiamo con certezza è la vittoria di questo centrodestra, tutto a trazione della destra di Meloni. Quello che abbiamo con certezza, ed è giusto dirlo a chi ci segue, è che per 5 anni qualunque riforma sui diritti civili verrà azzerata o, se va bene, diciamo così, sospesa, se no probabilmente faremo dei passi indietro. La Meloni ha promesso che non toccherà l'unione civile. Naturalmente posso parlare, no però ti ricordo Adriana che c'era una legge sull'eutanasia, c'era la maggioranza del Parlamento che la stava per approvare, c'era anche nel Parlamento scorso una certa quasi maggioranza sulla legalizzazione del mercato della cannabis, poi c'è l'applicazione della legge sull'eutanasia. Però restiamo, restiamo, tutto questo non verrà toccato. Ho detto che sono d'accordo sul fatto che si affronti in Parlamento una legge sull'eutanasia. Ragazzi i numeri c'erano ed erano di centro-sinistra, c'era la possibilità di portare avanti lo stesso discorso sul DDL-Zan sul quale io ero contro. Durante il governo giallorosso? Durante il governo giallorosso? Sì, durante il governo Draghi no. Sì, ho capito, però voglio dire, i numeri, il governo giallorosso, il Parlamento era lo stesso che il Parlamento. Dico, concordi che i prossimi cinque anni non ci saranno passi avanti. Però potevano farli per gli italiani. Non ditelo a noi naturalmente. Secondo me, come spesso accade, non è da escludere che magari si possa affrontare un argomento con l'eutanasia, che si può fare una legge che ti posso garantire. Noi ce lo auguriamo. Ci sono tante persone che hanno un certo grado di sensibilità. Ok, fammi stare... Senti, volgiamo anche Draghi. Perché Draghi, questa cosa che in effetti queste leggi poteva farle il governo giallorosso è vero, quando eravate al governo col PD. Tutti i diritti civili sono temi tipici dei Cinque Stelle e del Partito Democratico, però non li avete fatti. Sì, diciamo che il Movimento Cinque Stelle è vero che è a favore di tutti i diritti civili, però fonda anche i suoi valori, i suoi principi rispetto soprattutto ai diritti economico-sociali. Quindi diciamo che forse è più una certa area della sinistra che punta molto su questo tipo di riforme. Non sono d'accordo neanche sui diritti. Ebbè, questo è importante dirlo. Comunque... Non è la massima priorità in un momento come questo, però ricordo anche che nella legislatura, non quella che si è appena conclusa con l'elezione di ieri, ma quella di dieci anni fa, c'era il Partito Democratico che aveva praticamente la maggioranza assoluta della Camera dei Deputati, aveva una maggioranza quasi assoluta anche nel Senato. No, no, ma sono d'accordo, le unioni civili le ha fatte Renzi comunque. Il Partito Democratico ha provato con lo Iuscole, ha provato con il decreto Zan che pure non era perfetto, ha provato su... No, è la liberticida. Dobbiamo dire... Vabbè, vabbè. Da più Europa mi aspetto questo... Allora, scusate, sentiamo Calenda su Emma Bonino, perché lo scontro, Jacopo ce lo fai vedere, a Roma c'è stato questo scontro tra Emma Bonino e Calenda, che se forse... In realtà sono fuori tutte e due dall'uninominale perché è passata Mennuni del centrodestra, in realtà è passata per tre punti percentuali o poco più, lo vediamo, eccolo qui, rispetto ad Emma Bonino con Calenda che è al 14,1, 14,07, ovviamente sono volati gli stracci tra Bonino e Calenda rispetto al fatto che se non ci fosse stato appunto Calenda candidato in quel collegio forse la Bonino all'uninominale poteva anche averla meglio. Se forse bisogna aggiungere una cosa, lo ricordo che ci segue, che Calenda con noi ha scritto... Voi eravate assieme originariamente? Ha scritto un accordo con il Partito Democratico che noi abbiamo, come dire, integrato, ma l'ha scritto di suo pubblico, abbiamo fatto... Abbiamo sfiorato comunque un risultato che sarebbe stato importante. Quello che diceva Senna però è vero, cioè lui dice, sì, se non c'era Fratelli d'Italia anche noi saremmo stati il primo partito e ci sta come provocazione. In realtà qui forse sarebbe bastato che al posto di Carlo Calenda ci fosse un altro candidato di azione e Italia Viva e non proprio Carlo Calenda e magari quel 3% ballava a favore. Ha ragione Jacopo, anche perché, anche qua lo voglio ricordare, quello era il collegio nel quale Emma Bonino era stata eletta 4 anni prima. Sì, però era anche il collegio di Calenda. Era stata eletta Emma Bonino 4 anni prima, non Calenda e noi a Calenda, e Calenda lo sapeva benissimo, avevamo già detto e proposto che Emma Bonino fosse candidata in quel collegio. Se Calenda non avesse rotto l'accordo con il Partito Democratico è del tutto evidente che ci sarebbe stata Emma Bonino. Sentiamo cosa ha detto Calenda per rispondere al fatto che la Bonino non è stata eletta, sentiamolo. Vede, io avrei pure potuto dire, sapete che a me mi interessa solo del collegio uninominale di Roma, quindi facciamo politica non per fare un partito politico, ma per fare eleggere la Bonino all'uninominale di Roma. Non so se queste persone sarebbero però state insieme a me, quindi non so se avrebbe funzionato. credo che proprio sia un modo sbagliato di porre la questione. Dopodiché mi dispiace molto che Emma Bonino non entri in Parlamento, nonostante gli insulti ricevuti dal primo giorno, ho detto che speravo che sarebbe rientrata, lei sapeva perfettamente dove mi sarei candidata e il PD l'ha usata in questo gioco contro di me e ha fatto un errore, ha fatto un errore lei. Peraltro mi spiace anche per più Europa che non raggiunge la soglia. Allora Bonino ha risposto, c'è chi si dispiace del risultato un po' tardi e in maniera un po' ipocrita, a mio parere perché si sapeva perfettamente dove si stava andando e poi c'è una nota di più Europa, se hanno una maggioranza confortevole al Senato, al centro-destra e anche perché seggi come quello della Bonino sono andati alla destra, in conseguenza della scelta di Calenda e Renzi di uscire dal patto. Questo è un dato di fatto, se vogliamo non è neanche una valutazione politica, è del tutto evidente che se Calenda avesse rispettato l'accordo con noi e il PD, questa coalizione ben più liberale e più europeista avrebbe ovviamente preso, avrebbe fatto più eletti nei collegi unii nominali, questo è un dato di fatto, poi ognuno può valutarlo e fare le proprie valutazioni. Io direi che da oggi però dobbiamo girare pagina, anche noi, la Lega lo faremo anche noi di più Europa, faremo tutte le nostre valutazioni, il nostro risultato, stante le condizioni che vi ho detto prima è stato un buon risultato, ma purtroppo non abbiamo ottenuto... Quindi avete solo due eletti che sono della Vedova e Maggi, cosa faranno, vanno nel gruppo misto? Sì, andranno nel gruppo misto, ne avremmo, con la nostra componente, ne avremmo avuti almeno cinque e con due... Ma lo fate al riconteggio sì o no? Sì, sì, il riconteggio sì... L'avete chiesto? Si chiede, perché c'è una procedura, dovrà decidere probabilmente la commissione parlamentare è preposta, quindi sarà un pochino difficile, però naturalmente noi questo lo chiediamo perché... Perché 16.000 voti potrebbero fallare. E la legge ci permette anche... Jacopo? Di chiederlo. Vi faccio vedere anche, ne parlavamo, il risultato di più Europa a Milano, perché... Aspetta, 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 fa un po' di pathos, ce lo fai vedere dopo la pubblicità. Va bene. Allora, rieccoci, vediamo, stavi dicendo, Jacopo, i dati di più Europa su Milano? Sì, sì, i dati di più Europa su Milano sono diversi, ovviamente largamente, da quelli che sono i dati, il dato nazionale è il più del doppio, perché come vedete nel collegio uninominale 03 di Milano, che è quello che più accorpa le sezioni milanesi, è al 6,23. Sempre sotto l'alleanza verde-sinistra, ma di poco, perché l'alleanza verde-sinistra comunque a Milano fa il 6,47, c'è lo straordinario 0,34 di impegno civico, che vabbè è fantastico. Di Maio. Esatto, però vedete, la Lega è appena al 6,8, quindi più Europa ha fatto un risultato non lontano da quello della Lega, superiore a quello di Berlusconi, che una volta era, come dire, maggioritario a Milano addirittura, se andiamo indietro in qualche tempo. Per cui, insomma, il risultato milanese è buono, Federico, molto buono. No, è vero, è buono, grazie, e questo io lo voglio ricordare. Non è la prima volta che più Europa prende molti voti. Perché prendete voti a Milano? Nelle grandi città? Qualcuno dice che siete un partito radical chic, quindi prendete i voti nel centro di Milano. Io mi sento radical. La classe dirigente, quelli con più soldi. Mi sento radical e molto meno chic, nonostante la scelta della camicia. Sì, sei un po' fighetto stasera. Esatto, però mi considero radical e non chic. No, direi che più Europa prende i voti dove sia i diritti civili, diciamo così, le classiche rivendicazioni della nostra storia radicale, e sia i diritti economici, quindi lo sviluppo, la concorrenza, sono più sentiti. Tradizionalmente nelle parti più produttive, quindi nelle grandi città. Fammi dire, io voglio ringraziarli però i Lombardi, perché non solo abbiamo preso oltre il 6% Milano, ma abbiamo superato il 5% a Bergamo, abbiamo superato il 5% a Pavia, abbiamo superato il 4%... Quindi la Lombardia è stata una regione bruttifera per voi? che ha... Nelle parti produttive del paese, come il tale sul serio? Che ha Como, sì, in quasi tutte le città lombarde, ma anche, siamo andati benissimo a Firenze, siamo andati benissimo a Bologna. Ok, lì non ci vedono tanto. Non ci vedono, ma Europa si rilancia, diciamo, anche con un voto così importante, poi purtroppo abbiamo... Non sono giusti quei dati, perché il collegio, se non sbaglio, è un po' più largo di quello... Leggermente. In teoria siete... Perché c'è dentro anche, sì, il collegio 7, c'è dentro anche Sesto. Scusate, adesso però guardiamo avanti, perché visto che siamo in chiusura, volevo chiedere, visto che le prossime elezioni sono quelle regionali, parto da Draghetti, volevo chiederti, Draghetti caro, che cosa fate col PD? Se fate un'alleanza col Partito Democratico per presentare un candidato comune o anche qui vi separate tutti, PD, Azione, P Europa, 5 Stelle, tutti separati? Cosa fate? Allora, io credo che... Si vuole fare del male, magari se lo fa ancora. Io credo che il buon risultato di questa tornata politica del Movimento 5 Stelle sia dovuto, uno, ad aver comunque posto delle forti questioni sociali rispetto al governo Draghi che, come ho detto prima e rivendico, era un po' l'antitesi anche dei nostri valori della nostra storia e soprattutto, due, è aver in qualche modo allontanato una prospettiva di alleanza strutturale col Partito Democratico. Cioè è inutile, non so chi, magari anche qualche ex dirigente che adesso ha fatto lo 06 mettendosi un po' in proprio, cioè Di Maio, ma chi ha mai detto che il Movimento 5 Stelle deve correre col Partito Democratico? Noi siamo nati per essere alternativi al centro-destra e al centro-sinistra. Quindi è innaturale per qualsiasi collaborazione... È innaturale. È tutto naturale, Greta e loro al contrario. ...con chi ha delle prospettive di sviluppo dell'Italia assolutamente distanze dalle nostre. Draghetti, scusami, io ti voglio tanto bene. Però, come pensate di battere una coalizione di centro-destra che è composita con fratelli d'Italia così forti? La Lega, che insomma in Lombardia c'è, Forza Italia c'è, da soli. Cioè non è una battaglia contro i mulini a vento? È vero ragionando dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista politico noi abbiamo iniziato a dilapidare il nostro consenso quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di ragionamenti. Quando non guardavamo i sondaggi, le strategie elettorali, eccetera. Abbiamo conquistato comuni come Roma, Torino, abbiamo fatto il 32% alle elezioni politiche. E ma si è ferita a quell'epoca. Quindi non dico che in Lombardia potrà esserci una prospettiva di vittoria del 207 da solo. Ma ricordo anche che in ogni regione, in ogni governo, in ogni paese, in ogni comune servono anche delle forti, sane opposizioni. Il Movimento 5 Stelle, se in Lombardia dovrà essere un'opposizione, si prenderà la sua bella percentuale. Ok, l'opposizione da soli. Ok, devo chiudere. Cosa fate voi in regione? Voglio tranquillizzare Draghetti che in opposizione ci starà in ogni caso anche col PD. Su questo non ci sono dubbi. L'hai sentito? Dice che l'opposizione ci starà. Dei farla più forte non ti sente. È evidente. Qual era la domanda per me? Sì, ho sentito. Hai sentito? Ok. La domanda per te è cosa fate se Fontana sarà il candidato di tutta la coalizione. Cosa dici? Eh, ma voglio dire, bisognerebbe chiederlo alla Meloni, a Lombardia, alla Ronzulli, barra Tajani, barra Berlusconi. Mi piace che ha detto prima Ronzulli di Berlusconi. Chissà perché. Noi siamo usciti e abbiamo detto, come logico che sia, che Fontana è il nostro candidato soprattutto perché è il candidato uscente nella regione meglio amministrata di Italia. Posso dire una cosa che non devo? Io interpreto le parole del nostro amico della Lega in un'apertura verso un'altra candidatura. Chissà se mi sbaglio. Ad esempio Letizia Moratti. Chissà se mi sbaglio. In più Europa che è un personaggio molto simpatico, come capacità di lettura è pari a zero. Jacopo, cosa volevi dire? Che dobbiamo chiudere, Jacopo. No, due cose velocissime. La prima, diceva la Ronzulli, in realtà Berlusconi nel suo collegio ha preso il 52% ed è serenamente andato. In più, vi faccio vedere, per chiudere, un'altra cosa. E' Giorgia Meloni, uninominale all'Aquila. Ecco, è partito via tutto. 51 e 49. Praticamente questo fa capire anche in più la portata di quello che è successo, forse. Certo, certo. Va bene, allora comunque noi adesso avremo finita un'elezione e ne parte un'altra perché tra poco inizia la campagna elettorale per le regionali. Quando si vota per le regionali? L'anno scorso è il 4 marzo. Solitamente per regolamento dovrebbe essere una settimana prima della votazione. Quindi fine febbraio? Più o meno fine febbraio. Fine febbraio si vota. Va bene. Presto, troppo presto. Ci dovrai invitare spesso. Certo, ma allora devo dire che tu hai accusato la TV nazionale di non invitarvi ma noi vi invitiamo. E mai ho accusato e mai mi permetterai Telenova. Ecco, Telenova non fa questi sgarbi. No. Grazie a Valerio Federico, grazie a Manuel Draghetti, grazie a Gianmarco Senna in regia, a Ambra Fietta e Silvio Valsecchi. Grazie a te Jacopo che ci hai aiutato molto. Ci vediamo venerdì con un'altra puntata. Buonanotte. Più Europa a tutti naturalmente nei prossimi cinque anni. Grazie a tutti.